12 kill ce la si porta a casa questa è una partita questa è una partita oh 64 giorni 64 giorni ci ho messo per sbloccare questa fighissima skin Singularità forse una delle skin sbloccabili diciamo col completamento delle missioni barra raccoglimento dei fortbite Secondo me è la più figa in assoluto skin che abbiamo mai avuto e ci abbiamo messo 64 giorni Fatemi sapere nei commenti se voi l'avete già sbloccata se vi piace oppure se non vi piace se non l'avete ancora sbloccata E vi consiglio di sbrigarvi perché avete circa una ventina di giorni ancora per poterla sbloccare Finita la stagione 9 non sarà più possibile raccogliere i fortbite della stagione 9 di conseguenza non potete più sbloccare questa skin e tutte le altre cose che si sbloccano col raccoglimento dei fortbite Ed eccola qui la nostra cara singolarità con i vari stili sbloccabili ossia questo dove è più equipaggiata e questa dove è equipaggiata a livello massimo C'è solo il fatto che sia di colore verde questa cosa qui un po' mi... però come skin boias è fighissima E io direi di shoppare anche questa mimetica che secondo me va proprio alla perfezione con questa skin qua Quindi l'acquisterei Chiaramente raga vi ricordo coach e supporto a un creatore OctiPFI Mandatemi le foto su Instagram e su Telegram che io vi riposto Grazie mille a tutti coloro che lo stanno utilizzando davvero io non sarei qui senza di voi Raga tra l'altro un mio abbonato grazie mille Raniero Falco mi ha regalato il deltaplano apposta adesso C'è veramente grazie mille di cuore Raniero Falco sei un figo della madonna Un altro un altro ma ma è pazzo ma ora io direi di andare a provare la nostra cara skin singolarità Adesso ci buttiamo lì anche perché c'è la missione che devo spaccare le navi pirata e infliggere danni coi fucili pesanti Ultimamente mi è capitato di rivedere delle live di ninja il che è stato parecchio utile perché lui usa l'inventario uguale al mio Se non per una cosa strana che all'inizio mi sembrava strana ma poi ci ho fatto caso e dà strasenso Lui non tiene la R all'inizio lui tiene la K e questa cosa mi ha sorpreso tantissimo Addio Ehi due e via fuori dai co... Comunque vi stavo dicendo che ninja usa tantissimo la K al posto della R Poi chiaramente quando becca la K blu prende la K blu quando becca la R blu prende la R blu Dipende insomma se becca la K blu prende sempre la K blu rispetto alla R L'unica cosa che prende sopra la K sono il fanteria dorato oppure lo scaracca dorato Ma quello mi sembra più che chiaro soprattutto in endgame Ma inizio partita veramente la K cioè facendo quei 40 di danno è tanto potente tanto tanto potente Per quanto riguarda il pompa lui prende sempre il pompa combat che secondo me è il pompa più forte del gioco in assoluto comunque In assoluto Ma ma cosa c'è Pensava lui Pensava Distrutto Uoh Easy 6 kill raga Easy Raga il nuovo lanciagranate è up Uppice raga Sarebbe bello utilizzare un attacco aereo in partite diverse Per utilizzarlo però prima devi trovarlo e io non lo troverò mai Come non detto Come non detto Sarebbe bello utilizzare un attacco aereo in partite Sarebbe 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 Curiamoci 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 8 kill 8 kill raga 8 kill Vai che la partita Va alla grande Io ve l'ho detto Sta skin è qualcosa di devastante E nessuno L'avrebbe mai detto Fare 8 kill Buttandosi in quel posto lì Lì altri nemici Il problema è che devo curarmi Prima di fare qualsiasi cosa Non ho shieldini Però diamine Questo non va bene Sento puzza di nemici Che proverranno da qua Ok Quella è un'eccezione Ma che senso Andare fuori safe Ma siete ritardati? Vorresti curarti E invece E invece E invece E invece 9 kill 9 kill Signori Purtroppo Purtroppo Shieldini Pochi Non ne abbiamo Non ne abbiamo Io avevo un shieldino E devo cercarmi altre cure 9 kill Non voglio buttare questa partita Se muoio Se muoio per una cecchinata Per una barrettata Faccio tutto Quella hard drop Secondo me è rischiosissimo Andare a prenderlo Però Ecco allora Nemici là Sì Sì però Sei inutile tu Ok 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 No 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 Questa me la devono spiegare Ma come hanno fatto Ma come hanno fatto No 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 Questa è impossibile proprio Io voglio capirla questa Dice che riesco ad arrivare a quell'aerdrop Spero di sì Spero che nessuno mi abbia visto Infatti nessuno mi ha visto Finché la barca va Lasciala andare Finché la barca va Lasciala andare E noi ce ne andiamo in safe Fregandocene altamente di tutto e tutti Chi se ne frega degli altri Let's go Veloce E poi non ho trovato niente Trappole Boh Pure Bello che non ci sia più rift portatile Perché ti impedisce di perdere l'high ground in questo modo Tutti là Dai crepate Crepate Che cavolo Uno contro uno Uno contro uno raga Uno contro uno Dai Voglio proprio vederlo Grazie Grazie Dove sei? È lì È lì Sicuramente È lì È lì Palesemente è lì Sennò dove può essere? Sì è lì Dai Dai che ce la portiamo a casa Già 11 kill Dai Tira fuori Finirà i materiali Prima o poi Finirà i materiali Finirà i materiali Prima o poi Dovrai uscire Dovrai uscire prima o poi Dovrai uscire prima o poi Addio Addio 12 kill Ce la si porta a casa Questa è una partita Questa è una partita Oh Oh La mitica skin Vince tutto Io lo sapevo Io lo sapevo Io lo sapevo 12 kill Ci sta Questa è stata una partita da manuale Per Ciao 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 Oh Grazie a tutti.